Navi da crociera, giochi del Mediterraneo, voli charter all'aeroporto di Taranto, l'evento nazionale della Biennale della Prossimità. Il sindaco Melucci esprime soddisfazione per i recenti successi conseguiti dalla città e si dice ottimista pur non perdendo di vista le problematiche del territorio. Eravamo convinti che questa città potesse misurarsi con qualunque sfida su qualunque palcoscenico di rilevanza nazionale e internazionale. Chiaramente poi da attore pubblico, insomma da amministrazione comunale abbiamo fatto in modo e continueremo a fare in modo sempre di più perché quei giorni possono diventare vita ordinaria di questa città che è una capitale di mare, una capitale del Mediterraneo che ha nel suo DNA questa grandezza. Questo non significa che dobbiamo dimenticare i problemi, che non dobbiamo continuare a fare bene il nostro lavoro intorno a questi problemi ma per rimettere insieme i coach di questa comunità, dargli un senso positivo, dare una prospettiva ai nostri giovani bisogna vivere anche giornate come queste. Insomma poi siamo particolarmente contenti anche della buona riuscita della Biennale della Prossimità. Oggi siamo qui per questo, tante persone in città, proprio intorno a un tema che è un tema nuovo per questa città, un tema che sarà sempre più importante. Grazie a tutti.